Le limitazioni imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus stanno condizionando molto le nostre abitudini, soprattutto per quanto riguarda la tanto famigerata distanza di sicurezza, il droplet, parola ingrese che abbiamo sentito citare più volte nelle trasmissioni televisive, letteralmente significa gocciolina e in campo epidemico si riferisce alla saliva nebulizzata che parlando con una persona infetta a distanza ravvicinata oppure per colpa di uno starnuto o di un colpo di tosse ci raggiunge trasmettendoci il virus. Ma questa famigerata distanza di sicurezza, oltre che ai nostri rapporti sociali, sta creando problemi anche nelle situazioni inevitabili come andare in posta, in banca o parlare con un impiegato o come abbiamo sentito ieri colloquiare o essere visitati dal proprio medico, una delle categorie più esposte al rischio. Ma un'altra professione molto esposta al contatto con persone quotidianamente è quella del farmacista, il quale come il medico si sente, se non in prima linea, ma certamente tra i più esposti. Le direttive da parte del Ministero della Sanità sono state abbastanza chiare e cerchiamo nei limiti del possibile della decenza di applicarle cartelli con le indicazioni, cercare di evitare il sovraffollamento nei locali, cercare di rispettare il famoso metro di distanza anche se diciamo che poi praticamente è abbastanza inattuabile questo consiglio che ci dà il Ministero della Sanità. Per quel che riguarda la reperibilità dei prodotti consigliati, sapete benissimo qual è la situazione, gel disinfettanti per le mani praticamente introvabili, mascherine praticamente introvabili di ogni tipo, categoria e forma. Sembra che da comunicazioni che ci arrivano anche dai nostri fornitori, sembra che qualcosina entro la prossima settimana si dovrebbe muovere anche perché le aziende si sono riattrezzate nella produzione. Pensate anche di fare qualche operazione meccanica, proprio una barriera, qualche cosa che aiuti un po' a prevenire? Beh, indubbiamente anche i dati di stamattina fanno pensare a un'evoluzione della cosa e un avvicinamento, cioè da zona gialla siamo diventati arancioni diciamo, quindi c'è la previsione di un avvicinamento purtroppo inevitabile alle zone cosiddette rosse, quindi credo che anche sotto quell'aspetto bisognerà prendere delle precauzioni come in altre attività tipo banche, tipo altri negozi che hanno messo delle paratie di plexiglass per evitare proprio la trasmissione.